Parliamo della partita con Teramo, più o meno sappiamo la data? Sì, il 12 maggio in trasferta. Quindi due settimane abbondanti per preparare una sfida importante. Allora, Teramo è veramente logisticamente parlando una trasferta lunghissima, ma che cosa conoscete di questa formazione? Se magari avete avuto modo di avere qualche video o di parlare con qualcuno che ha affrontato Teramo nelle settimane precedenti. No, ancora in realtà non abbiamo preparato la partita perché appunto da oggi cominciamo a prepararci per Teramo e fino alla settimana scorsa ci dovevamo preparare per la partita contro Fano. E adesso, da stasera, dall'allenamento di stasera, la prepareremo. Comunque tanto rimane il solito concetto che per noi ogni partita è importante, ce la giochiamo con tutti. La difficoltà grande appunto è questa della trasferta, che sarà una lunga trasferta, in più una partita infrasettimanale e dunque sarà ancora più faticosa sicuramente. Giada, si gioca al meglio dei tre o dei cinque punti? Ti faccio sta domanda perché sinceramente faccio fatica, e scusami il giro di parole, a metterla in fila stasera stagione, al meglio delle tre gare o delle cinque gare? Ah, delle tre dovrebbe essere. Dovremmo fare la partita dell'andata, poi il ritorno, e poi non so se c'è il golden set. E il golden set lo farete in casa o fuori? Lo sapete? In casa, eventualmente. E lì speriamo veramente. Allora, quindi sono due trasferte a Teramo e una partita che giocate in casa, giusto? Una a Teramo, sì, e una in casa e poi il golden set. E io mi auguro che quella in casa, veramente, mi auguro che ci sia il pubblico, perché ve lo meritate, perché Trestina, credo che una partita di volley così importante non l'abbia mai giocata, e sono convinto che se magari Teramo, non lo so, perché non conosco la rosa, se Teramo magari ha qualcosina in più, lo può avere in casa, ma in trasferta, tra le mura amiche, al palafemac, diventa difficile per tutte. E credo che poi alla fine il golden set sarà la media fra i set del primo match, i set del secondo, e la differenza la farà chiaramente quello. E se il golden set lo si gioca in casa con il pubblico, diventa difficile. Come lo affrontate, sta novità, come l'affrontate, sta novità del golden set? Non ci pensiamo, speriamo di non affrontarla. Tu dici, speriamo di fare due a zero e a casa. Eh, noi puntiamo a quello. Senti, il golden set è, diciamo, al meglio dei 25? Sì. Mamma mia, un set dove ti giochi un'intera stagione, veramente, guarda, e poi è una cosa che non avete mai fatto, davvero non avete iniziato a pensarci, perché è una gestione veramente difficile, eh. Cioè, un conte far in tre set, se magari qualcosina sbagli, poi alla fine, Giada, tu mi insegni che riesci in corso d'opera a recuperare. Ma nel golden set, se sbagli, sbagli. E poi è una partita, è un set unico in una giornata unica. è una cosa mai vista, eh. E io non credo che, non avendo neanche uno storico, nessuno vi può dar consigli da questo punto di vista. come squadra non ce l'abbiamo. Poi penso che personalmente qualcuna di noi l'ha fatto il golden set. A me ne è capitato. Chi lo ha fatto? Chi ha rotto? Io mi ricordo che in serie C, con Francesca Mancini, credo anche ci fosse Aurora Fiorini e Linda Tarducci, l'abbiamo fatto. Vabbè, allora io te lo posso chiedere a te, come si vive il golden set? Male. Malissimo, perché comunque ci giochi tutto in un solo set, dunque non è neanche giusto. La speranza, diciamo, è che semmai lo affrontiamo in casa, dunque da un certo punto di vista è più semplice. Grazie. Grazie. Grazie.